La pecora Sean e il suo grecce conoscono ogni trucco quando si tratta di divertirsi Ma le cose possono sfuggire di mano All'aspetto Per riunire la famiglia Avranno bisogno di un po' di testa E di tanto lavoro di squadra Per rimanere fuori dai guai Dovranno pensare in fretta Stupire! Hardman Animations I creatori di Wallace e Gromit E Galline in Fuga presentano Una strabiliante Fuga in città Sean, vita da pecora Il film Pasqua al cinema